Il dialetto molfettese è stato oggetto di studio di una ricercatrice dell'Università di Zurigo. Ascoltiamo di più nel servizio di Marilena Farinola. Quanto si sia evoluto nel tempo il linguaggio e cosa spinge una ricercatrice dell'Università di Zurigo ad avviare uno studio sul dialetto molfettese? Sono queste le curiosità al centro dell'incontro organizzato dall'Associazione Molfettesi nel Mondo Rodolfo Caputi, tenutosi nell'auditorium della parrocchia Madonna della Rosa e che ha coinvolto anche le comunità molfettesi oltreoceano. Pochi parlanti se ne rendono conto ma il dialetto molfettese è uno di quei dialetti che possiede una grammatica del genere grammaticale più complessa. Quindi se l'italiano abbiamo il femminile e il maschile, il molfettese ha quello che possiamo chiamare un genere neutro, un terzo genere ed è quello di cui mi occupo io, un terzo genere che in realtà pian piano sta scomparendo per pressione proprio dell'italiano. Il molfettese ha anche una fonetica, cioè una serie di suoni, di ditonghi che per alcuni assomigliano quasi all'inglese per certi versi e questa è una particolarità perché il molfettese ha dei suoni che sono stati studiati già nel 1917 da Clemente Merlo, che è un famoso dialettologo, che ha scritto un articolo sui suoni e in particolare su determinati ditonghi del sistema fonetico del molfettese. Il dialetto conserva le radici, la storia, la tradizione di un paese. Non bisogna trascurarlo, ma va coltivato anche per l'educazione delle future generazioni. Rappresenta la nostra identità, come tante altre cose, e quindi è sbagliato dire ai ragazzi non parlate il dialetto. Certo, devono conoscere l'italiano, ma il dialetto è la lingua della propria anima. Grazie. Grazie.